Risale allo scorso mese di novembre l'ufficialità della realizzazione del nuovo ospedale Marche Nord di Pesaro, recentemente inserito anche nel masterplan di edilizia sanitaria della regione Marche. Risale allo stesso mese pure l'aggiudicazione del sito già ospedalizzato di Muraglia, preferito dopo approfondimenti tecnici al terreno vergine di case bruciate. Arrivati a marzo però galleggiano ancora nell'incertezza tempistiche di partenza dei lavori, tempistiche della realizzazione e risorse per la progettazione. Domande sollecitate dall'opposizione in consiglio regionale che ha presentato un'interrogazione firmata da Andrea Biancani e Michaela Vitri. La cosa che mi sta preoccupando sempre di più sono i tempi perché attualmente il progetto che era in qualche modo stato definito è stato gettato e quindi si tratta di ricominciare con la progettazione. Attualmente non mi risulta che la regione ha iniziato la progettazione e per questo nell'interrogazione chiedo quali sono i tempi per iniziare la progettazione, per capire chi farà la progettazione e dove sono le risorse per poter fare i progetti, perché ricordo che un progetto di questo tipo potrebbe costare circa 10 milioni di euro, quindi non parliamo di cifre basse. Dopodiché ho chiesto oltre i tempi della progettazione anche quelli che sono i tempi per la realizzazione previsti. Attualmente non vedo a bilancio risorse previste, quindi si tratterà di trovare le risorse facendo degli accordi, ecco probabilmente con lo Stato, ma accordi con lo Stato che sono possibili solo qualora sono pronti i progetti. Quindi quello che ho voluto in qualche modo chiedere, una risposta, non è la prima interrogazione che faccio, ma penso che la città di Pesero, ma l'intero territorio, abbia diritto di sapere quelli che sono i tempi di realizzazione del nuovo ospedale, in quanto eravamo arrivati davvero a un passo dall'inizio dei lavori e ci ritroviamo che a circa un anno e mezzo dalla nuova amministrazione regionale ancora non è stato definito il nuovo progetto, ma anzi abbiamo perso un anno e mezzo per riconfermare quella che è la sede che era stata individuata, cioè la sede di Muraglia, mentre inizialmente sembrava che la nuova giunta regionale decide, voleva in qualche modo realizzare questa struttura a case bruciate.